Secondo una statistica nazionale gli abbandoni dei cani sono drasticamente aumentati, solo nel 2023 sono stati più di 85.000. Ci troviamo oggi al canile comprensoriale gestito dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane a Monte Bolzone, con il garante per la tutela degli animali del Comune di Piacenza e qui responsabile del canile Giovanni Peroni. Lei registra questa tendenza di abbandono qui? Noi sono già qualche anno che siamo in controtendenza su queste statistiche. Dall'inizio dell'anno in questo canile, quindi dal primo di gennaio, sono entrati adesso un'ottantina di cani, che sembrano tanti, ma noi negli anni passati eravamo abituati a ben altri numeri, quindi ad agosto erano già entrati al canile circa 200 cani. Molti dei cani ritrovati intanto sono microcippati, quindi vengono restituiti ai proprietari. E quelli non microcippati riusciamo in poco tempo a darli in adozione. Quella che è in aumento invece è la rinuncia di proprietà, cioè il proprietario rinuncia alla proprietà del cane e lo porta direttamente in canile. Queste sono in aumento, se noi ci mettiamo nella testa del cane, non cambia niente, assolutamente niente, portare il cane al canile direttamente o abbandonarlo in un campo, in un bosco, perché per il cane è importante l'avere un riferimento e nel momento in cui manca per il cane un dramma. Lei è da più di 30 anni che svolge questa mansione che si occupa di Amici a quattro zampe. Cosa ha notato di diverso in tutti questi anni? La struttura è cambiata, è migliorata, il servizio è sicuramente migliorato, la sensibilità delle persone è migliorata nei confronti degli animali, tantissimo, ma quello, dico sempre, che non cambia mai è la faccia del cane che viene lasciato in canile, perché quella è veramente triste. Pensiamo bene alla tipologia di cane che stiamo prendendo. Non fidiamoci delle foto, andiamo sul posto, vediamo il cane, parliamo con le persone che lo conoscono e vediamo se questa tipologia di cane, con le proprie caratteristiche, coincide con quello che è il nostro stile di vita, con quella che è la nostra casa, con quella che è la vita che noi facciamo quotidianamente e soprattutto in ferie.